La legge Fornero ci ha imbrogliato! Pensione! 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 Vogliamo la nostra pensione! 41 anni e 4 mesi che lavoro in officina nell'artigiano e sono stufo di prendere i calci nel sedere. Anche i ragazzini mi comandano! E la Fornero dov'è? Vogliamo i tortellini a vita, bolognesi! Rispondete, vogliamo i tortellini a vita! Io sono di Milano ed è veramente difficile affrontare queste situazioni perché sono costose, perché portiamo via del tempo le nostre famiglie e allora dobbiamo essere ascoltati. Non chiediamo la luna, chiediamo un semplice diritto che noi abbiamo già acquisito in tanti anni di lavoro. Noi donne chiediamo la proroga dell'opzione donna che è estremamente penalizzante per noi perché la percentuale che viene tolta è altissima, però tante donne hanno di quelle difficoltà immane a casa e credo che i nostri politici bisogna che se ne rendano conto. Grazie. Io oltre ad aver maturato i 41 anni di contributi sono anche esodato, solo che purtroppo la settima salvaguardia non ha tutelato chi nel 2011 assisteva i genitori, come nel mio caso, mentre sono passati solo quelli che assistevano i figli. Ed è una vergogna. Ci sono tre sentenze della Corte Costituzionale e due sentenze della Corte Europea. È una vergogna.